Un simbolo molto importante, l'alberone, una caratteristica distintiva di questo quartiere, avete sentito anche le persone che dicevano cambiamo il nome della fermata della metro da Furio Camillo, chiamiamolo Alberone, è una proposta, adesso io ne parlerò in giunta, magari si può aggiungere la parola Alberone al nome della sezione, ma detto questo è importantissima la cura del nostro verde e poi è anche molto importante il fatto che quest'albero sia una quercia che da millenni, veramente dalla Roma Repubblicana, è il simbolo della nostra città, il simbolo delle aree archeologiche più celebri nel mondo. Io sono orgoglioso di essere qua, sono orgoglioso della seconda F che ha disegnato il logo per la campagna Dona un albero, un logo bellissimo e ancora più bello perché viene dalla sensibilità dei nostri bambini romani. Ok? Ok?